Siamo con il consigliere regionale di rifondazione comunista Maurizio Acerbo. Acerbo allora sulla sentenza del turco PRC come si esprime? Ma noi diciamo innanzitutto che il problema in Abruzzo non sono i magistrati che fanno le inchieste nei tribunali che celebrano processi e sentenze. Il problema è il rapporto tra politica e interessi privati e in particolare tra politica e sanità. Il bubone su cui sono intervenuti la procura di Pescara era noto, è stato oggetto di battaglie e di polemiche per anni e che tutti adesso facciano gli ignorri a noi ci sembra molto criticabile. Sembra quasi che ci sia il capovolgimento della realtà, che vivremmo tutti meglio se Trifuoggi, Bellelli e Di Florio non facevano un'inchiesta. Noi per quanto riguarda rifondazione comunista rivendichiamo di aver dato una mano a far emergere questo quadro attraverso interrogazioni esposti, un lavoro che all'epoca rifondazione comunista fece alla luce del sole pur facendo parte della maggioranza di governo. Quello che adesso dovrebbe fare la politica però, oltre a negare l'evidenza, è quella anche di fare un esame dello stato dell'arte cioè ad anni da quei fatti giudiziari e dagli arresti. Come è proceduto il risanamento della sanità abruzzese? Perché, ripetiamo, la politica non si può lamentare di finire sotto inchiesta se non è capace di autoriformarsi e di far funzionare la cosa pubblica e soprattutto il servizio sanitario sulla base dei criteri di trasparenza fondati sul diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine.